Conversazioni noiose uccidono la conversazione con una ragazza e tu finisci che te ne torni a casa pensando di essere una mezza sega quando a volte il tuo modo di comunicare è semplicemente seccapassera. Quindi in questo video vediamo alcuni semplici trucchi per risolvere questo problema. Prima di cominciare però ti ricordo una cosa molto importante. Venimi anche a trovare sul mio canale Telegram Gio di Lorenzo dove ti do info molto più avanzate e meno politically correct che qui su YouTube non posso darti. Quindi venimi a trovare anche lì, trovi il link in descrizione. Primo trucco, non fare domande chiuse in quanto uccidono la conversazione molto velocemente. Entrambi vi sentite a disagio e lei se ne vuole andare. Se ad esempio ti racconta di come sia stata in Thailandia, l'uomo medio le chiederà Ah, ti è piaciuta? E da lì ti becchi un semplice sì o no che a meno che lei non voglia davvero investire nella conversazione con te e di solito quando sei all'inizio non è così, diventa difficile lavorare questo tipo di risposta. Quindi secondo trucco, fai domande aperte. Che cosa le è piaciuto? Raccontami di più. Prova di questo tipo. Terzo trucco, perché? Di solito quando penso alla Thailandia nella mia testa è più una meta per uomini che vogliono imparare arti marziali o sentirsi come Leonardo DiCaprio per un paio di settimane. Quindi si cerca di farla investire maggiormente. A questo punto lo studente delle prime armi, che almeno però non è un semplice information junkie, ma ha praticato almeno un pochino, potrebbe dire Gio, ma io ci provo, ma loro non investono o a volte non investono. Anche se io provo a fare le domande aperte tra virgolette giuste. E la mia risposta è esatto, baby. Vedi, quando tu fai una domanda aperta e una ragazza non investe nella tua domanda, devi provare a farla investire maggiormente. Se ad esempio le chiedi perché ha scelto la Thailandia, lei ti dà una risposta monosillabica, tu devi provare a, tra virgolette, spingere per dell'investimento. Se lei ad esempio ti dice Ah no, non c'ero mai stata, tu devi insistere e dirle qualcosa del tipo No, sul serio, sono curioso, perché sei stata tratta nello specifico da Thailandia? Fra tanti posti dove potevi andare, dimmi di più. E se lei non lo fa, in realtà abbiamo un ottimo indicatore. E cioè sappiamo che lei non sta investendo in quanto nella sua testa il tuo valore è basso, almeno in questo momento, o per sempre. E a questo punto dovremmo decidere se provare ad alzarlo o passare alla prossima ragazza. E considerazioni di questo tipo magari saranno oggetto di un prossimo video.